Sì, che vola Sì, che vola Sì, che vola Io sono pronti, prego un minuto Grazie signor Presidente, era per cogliere l'occasione di questa Menda 22 Juni e prole Grazie a tutti. E poi facciamo progetti anche in Albania, in India, quindi un po' un fatto di nuovo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.